la pistolettata buskin non ci sparamo baratinski io giurai di ammazzarlo per diritto di duello gli devo ancora il mio colpo di pistola la sera al bivacco eravamo a distanza nella cittadina di la vita dell'ufficiale dell'esercito è nota al mattino esercitazioni equitazione il pranzo dal comandante del reggimento o in una trattoria giudea la sera il pons e le carte ah non c'era neppure una casa aperta neppure una signorina da marito si riunivamo a vicenda nei nostri alloggi dove tranne le nostre divise non si vedeva nulla soltanto una persona apparteneva al nostro gruppo senza essere un militare egli era vicino ai 35 anni e noi perciò lo consideravamo un vecchio l'esperienza gli dava molti vantaggi rispetto a noi inoltre la sua abituale tetraggine i modi bruschi e la lingua maligna avevano un forte influsso sulle nostre giovani intelligenze una certa misteriosità circondava il suo destino egli sembrava russo ma portava un nome straniero un tempo aveva servito negli usseri e perfino con fortuna nessuno sapeva la ragione che lo aveva indotto a darle dimissioni e a stabilirsi nella povera cittadina dove viveva nello stesso tempo e poveramente e prodigalmente andava sempre a piedi con un logoro sopravito nero ma teneva tavola imbandita per tutti gli ufficiali del nostro reggimento è vero che il suo pranzo consisteva in due o tre piatti preparati da un antico soldato ma intanto lo champagne scorreva a fiumi nessuno sapeva nel suo patrimonio nelle sue rendite e nessuno osava domandargliene possedeva dei libri per la maggior parte militari e romanzi gli dava volentieri da leggere senza mai chiederli indietro in compenso non restituiva mai al proprietario un libro che avesse preso in prestito il suo esercizio principale consisteva nel tiro alla pistola i muri della sua stanza erano tutti rosi dalle palle tutti a buchi come i favi delle api una ricca collezione di pistole era l'unico lusso della povera capanna dove egli abitava arte che aveva raggiunta era inverosimile e se si fosse offerto da battere con una pallottola una pela dal berretto di chi che sia nessuno nel nostro reggimento avrebbe esitato a offrire il proprio capo la conversazione tra noi toccava spesso dei duelli silvio lo chiamerò così non vi si mescolava mai alla domanda se gli fosse capitato di battersi rispondeva asciutto che gli era capitato ma non entrava in particolari e si vedeva che così fatte domande gli erano spiacevoli noi credevamo che sulla sua coscienza ci fosse qualche disgraziata vittima della sua orrenda arte dal resto non ci veniva neppure in mente di sospettare in lui qualcosa di somigliante al timore ci sono persone il cui solo esteriore allontana dai sospetti un caso fortuito ci meravigliò tutti un giorno una decina di nostri ufficiali pranzavano da silvio si beve secondo il solito cioè moltissimo dopo pranzo ci mettemmo a pregare il padrone di casa di tener banco per noi e gli rifiutò a lungo perché non giocava quasi mai finalmente fece le carte rovesciò sulla tavola un mezzo centinaio di ducati e si sedette a tener banco noi lo circondammo e il gioco si iniziò silvio aveva l'abitudine al gioco di conservare un assoluto silenzio non discuteva mai e non dava spiegazioni se a un puntatore accadeva di sbagliarsi nel conto egli subito o pagava il rimanente o segnava il superfluo noi lo sapevamo già e non gli impedivamo di fare il padron di casa come voleva lui ma fra noi c'era un ufficiale di recente trasferito da noi egli giocando appunto lì per distrazione raddoppiò la posta senza necessità silvio prese il gesso ed eguagliò il conto secondo il suo solito ufficiale pensando che gli si fosse sbagliato si mise a dare spiegazioni silvio continuava a tener banco in silenzio l'ufficiale perduta la pazienza prese la spazzola e cancellò quello che gli sembrava segnato inutilmente silvio prese il gesso e segnò di nuovo l'ufficiale scaldato dal vino dal gioco e dal riso dei compagni si considerò crudelmente offeso e preso dalla tavola nel suo furore un candeliere di rame lo tirò addosso a silvio che fece appena in tempo a schivare il colpo noi rimanemmo confusi silvio si alzò in pallidi di rabbia e con gli occhi scintillanti disse signore favorite di uscire e ringraziate dio che questo sia successo in casa mia noi non dubitavamo delle conseguenze e stimavamo già morto il nostro compagno l'ufficiale uscì fuori dicendo che era pronto a rispondere dell'offesa come sarebbe parso al signore tenitore del banco il gioco proseguì ancora per alcuni minuti ma sentendo che il padrone di casa non era in umore da giocare ci allontanammo uno dopo l'altro e ci disperdemmo per i nostri alloggi discorrendo dell'imminente posto vacante il giorno dopo alla cavallerizza domandavamo già se il povero luogotenente era ancora vivo quando egli stesso comparve tra noi gli facemmo la stessa domanda egli rispose di non aver avuto nessuna notizia di silvio questo ci stupì andammo da silvio e lo trovammo fuori che piantava una palla dietro l'altra in un asse incollato al portone egli ci ricevette come al solito senza dir nulla dell'avvenimento di ieri passarono tre giorni il luogotenente era ancora vivo noi domandavamo con stupore possibile che silvio non si batta silvio non si batte si accontentò di un'assai lieve spiegazione fece la pace questo poteva nuocergli straordinariamente nell'opinione della gioventù il difetto d'audacia è scusato meno di tutti dai giovani che di solito nel coraggio vedono il sommo dei meriti umani e la scusa ad ogni possibile vizio ma tuttavia a poco a poco tutto fu dimenticato e silvio acquistò di nuovo il suo influsso di prima io solo non potevo ormai ravvicinarmi a lui avendo per natura una immaginazione romanzesca prima di questo fatto mi ero affezionato più fortemente di tutti a un uomo la cui vita era un enigma e che mi sembrava l'eroe d'un qualche misterioso racconto egli mi voleva bene almeno con me solo abbandonava la sua tagliente maldicenza abituale e parlava di argomenti vari con ingenuità e con una straordinaria piacevolezza ma dopo quella disgraziata sera il pensiero che il suo onore fosse macchiato e non fosse stato lavato per suo proprio volere questo pensiero non mi abbandonava e mi impediva di trattarlo come prima mi vergognavo a guardarlo silvio era troppo intelligente ed esperto per non notarlo e non indovinarne la ragione sembrava che questo lo addolorasse almeno io notai un due volte in lui il desiderio di avere una spiegazione con me ma io evitavo queste occasioni e silvio si allontanò da me da allora lo vidi soltanto in presenza dei compagni e i nostri schietti discorsi di prima cessarono i distratti abitatori della capitale non hanno un'idea di molte impressioni tanto note agli abitatori dei villaggi o delle cittadine dell'attesa per esempio del giorno della posta il martedì e il venerdì la fureria del nostro reggimento era piena di ufficiali chi aspettava denari chi lettere chi giornali i pieghi di solito si dissigillavano anche lì si comunicavano le notizie e la fureria presentava un quadro animatissimo silvio riceveva le lettere all'indirizzo del nostro reggimento e di solito era appunto lì un giorno gli dietero un piego da cui egli strappò il sigillo con l'aria della maggiore impazienza percorrendo la lettera i suoi occhi scintillavano gli ufficiali occupati ognuno delle sue lettere non notarono nulla signori disse loro silvio le circostanze esigono che io mi assenti immediatamente parto oggi nella notte spero che non rifiuterete di pranzare da me per l'ultima volta aspetto anche voi proseguì volgendosi a me vi aspetto senza fallo con questa parola egli uscì frettolosamente e noi avendo consentito a riunirci da silvio si separammo andando ognuno dalla nostra parte io giunsi da silvio al momento fissato e trovai da lui quasi tutto il reggimento tutte le cose erano già messe via rimanevano i soli muri nudi crivellati dai colpi ci mettemmo a tavola il padrone di casa era di uno straordinario buon umore e presto la sua allegria divenne generale i tappi schioccavano ad ogni momento i bicchieri sfumeggiavano e sfriggolavano ininterrottamente e noi col maggior zelo possibile auguravamo buon viaggio e ogni bene a colui che partiva ci alzammo da tavola ormai a sera tarda mentre ci sceglievano i berretti silvio salutando tutti mi prese per un braccio e mi fermò proprio nel momento in cui stavo per uscire ho bisogno di parlare con voi disse gli piano io rimasi gli ospiti se ne andarono restammo noi due soli ci alzammo da tavola ormai a sera tarda mentre ci sceglievano i berretti silvio salutando tutti mi prese per un braccio e mi fermò proprio nel momento in cui stavo per uscire ho bisogno di parlare con voi disse gli piano io rimasi gli ospiti se ne andarono restammo noi due soli ci sedemmo l'uno di fronte all'altro e accendemmo in silenzio la pipa silvio era impensierito non c'erano più neppure le tracce della sua convulsa allegria il cupo pallore gli occhi scintillanti e il fumo spesso che gli usciva dalla bocca gli davano l'aspetto di un vero diavolo passarono alcuni minuti e silvio ruppe il silenzio forse non ci vedremo mai più e gli mi disse prima che ci separassimo volevo avere una spiegazione con voi avete potuto notare che io stimo poco l'opinione degli estranei ma a voi voglio bene e sento che mi sarebbe penoso lasciare nel vostro intelletto un'impressione ingiusta egli si fermò e cominciò a riempire la sua pipa già vuota io tacevo abbassando gli occhi vi è parso strano e gli seguitò che io non abbia chiesto soddisfazione a quello stravagante ubriaco di r dovete consentire che avendo il diritto di scegliere l'arma la sua vita era nelle mie mani e la mia era quasi sicura da ogni pericolo potrei attribuire la mia moderazione alla sola magnanimità ma non voglio mentire se avessi potuto punire r senza esporre al pericolo la mia vita per nessuna ragione gli avrai perdonato io guardavo silvio con stupore una confessione simile mi aveva affatto confuso silvio proseguì proprio così io non ho il diritto di espormi alla morte sei anni fa ricevetti uno schiaffo e il mio nemico è ancora vivo la mia curiosità fu fortemente eccitata non vi siete battuto con lui domandai le circostanze certo vi avranno separati io mi battei con lui rispose silvio ed ecco la testimonianza del nostro duello silvio si alzò e trasse fuori da una scatola di cartone un berretto rosso con una nappina d'oro con un gallone quello che i francesi chiamano boné de police se lo mise era passata da parte a parte con un colpo di versiocca alla fronte sapete seguito a silvio che ho servito nel reggimento degli usseri il mio carattere vi è noto sono abituato a primeggiare ma da giovane questa era in me una passione ai nostri tempi la turbolenza era di moda io ero il primo attaccabrighe dell'esercito ci vantavamo dell'ubriachezza io vinsi nel bere il famoso burtsov cantato da denis davidov i duelli nel nostro reggimento avvenivano a ogni istante io in tutti ero o testimone o protagonista i compagni mi adoravano e i comandanti del reggimento sostituiti ad ogni momento mi guardavano come un male necessario io godevo con calma o senza calma della mia gloria quando si arruolò da noi un giovanotto di ricca e illustre famiglia non voglio nominarlo in vita mia non ho incontrato un uomo felice così brillante immaginatevi la giovinezza l'intelligenza la bellezza l'allegria più indiavolata il coraggio più non curante un nome sonoro dei denari che non avrebbe potuto contare e che non gli finivano mai e immaginatevi che effetto egli dovesse produrre fra noi il mio primato fu scosso lusingato dalla mia fama egli voleva cercare la mia amicizia ma io lo accolsi freddamente ed gli si allontano da me senza nessun dispiacere io presi ad odiarlo le sue fortune al reggimento e fra le donne mi portavano a un'assoluta disperazione cominciai a cercare di attaccare lite con lui ai miei epigrammi e gli rispondeva con epigrammi che mi parevano sempre più inaspettati e più mordaci dei miei e che di certo erano incomparabilmente più allegri lui scherzava mentre io mi inacidivo finalmente una volta a un ballo da un possidente polacco vedendo l'oggetto dell'attenzione di tutte le signore e particolarmente della stessa padrona di casa che aveva una relazione con me gli dissi nell'orecchio una triviale villania e gli si infiammò e mi diede uno schiaffo ci precipitammo sulle sciabole le signore svenivano ci separarono e quella notte stessa andammo a batterci era all'alba io stavo in piedi nel luogo fissato con i miei tre secondi aspettavo il mio avversario con un'inspiegabile pazienza il sole primaverile si levò e il calore cresceva già io lo vidi di lontano veniva a piedi con la giubba sulla sciabola accompagnato da un solo secondo noi andammo loro incontro e gli si avvicinò tenendo in mano il berretto pieno di ciliese i secondi si misurarono i dodici passi io dovevo sparare per primo ma l'agitazione del rancore era così forte in me che non mi fidavo della precisione del braccio e per darmi il tempo di raffreddarmi gli cedevo il primo colpo il mio avversario non acconsentiva stabilimmo di tirare la sorte il primo numero capitò a lui eterno favorito della fortuna mirò e mi trapassò il berretto veniva il mio turno la sua vita era infine nelle mie mani lo guardavo avvidamente cercando di cogliere sia pur soltanto un'ombra di inquietudine e gli stava ritto sotto la mira della pistola scegliendo dal berretto e le ciliegie mature e sputando i noccioli che volavano fino a me la sua insofferenza mi infuriò che utilità c'è a privarlo della vita pensai quando essa non gli ha fatto cara un pensiero malvagio mi palenò nella mente abbassai la pistola pare che adesso non abbiate il capo a morire gli dissi fate colazione non voglio disturbarvi non mi disturbate per nulla e gli ribatté abbiate la compiacenza di tirare ma del resto sia come vi pare il vostro colpo vi rimane riservato io sono sempre pronto ai vostri ordini io mi rivolsi ai secondi dichiarando che quel giorno non avevo intenzione di sparare e il duello finì appunto così io diedi le dimissioni e mi ritirai in questa cittadina da allora non è passato neppure un giorno che io non abbia pensato alla vendetta oggi la mia ora è venuta silvio tira fuori dalla tasca la lettera ricevuta al mattino e me la diede da leggere un tale sembrava che fosse il suo incaricato d'affari gli scriveva da mosca che una certa persona avrebbe dovuto presto contrarre legittimo matrimonio con una giovane e bellissima fanciulla voi indovinate disse silvio chi sia cotesta certa persona vado a mosca vedremo se accoglierà con tanta indifferenza la morte prima del suo matrimonio come un tempo l'aspettava intento alle ciliese a queste parole silvio si alzò gettò a terra il suo berretto e prese a camminare avanti e indietro per la stanza come una tigre nella sua gabbia io lo avevo ascoltato immobile sentimenti strani contradditori mi agitavano il servo entrò e annunciò che i cavalli erano pronti silvio mi strinse forte la mano ci baciammo salì su una carrettella dove erano messe due valigie una con le pistole l'altra con la sua roba ti salutammo ancora una volta e i cavalli galopparono via passarono alcuni anni e le circostanze familiari mi costrinsero a stabilirmi in un povero paesino del distretto di n occupandomi degli affari di casa non cessavo di sospirare per la mia rumorosa e spensierata vita di prima il più difficile di tutto mi fu abituarmi a trascorrere le serate primaverili e invernali in una completa solitudine prima di pranzo passavo ancora il tempo in qualche modo intrattenendomi col podestà andando quella per i lavori o facendo il giro delle nuove costruzioni ma non appena incominciava a embrunire non sapevo assolutamente dove cacciarmi un piccolo numero di libri erano stati da me imparati a memoria tutte le novelle che la governante kirillovna avesse potuto ricordare erano state raccontate le canzoni delle contadine mi mettevano malinconia volevo darmi alle infusioni non addolcite ma mi facevano venire mal di capo e lo confesso ebbi paura di diventare un ubriacone dall'amarezza cioè il più inasprito degli ubriaconi della qualcosa ho veduto una quantità di esempi nel nostro distretto vicini prossimi accanto a me non ce n'erano tranne due o tre inaspriti la cui conversazione consistiva per la maggior parte in singhiozzi e sospiri la solitudine era più facile a sopportare finalmente mi decisi ad andare a letto il più presto possibile a pranzare il più tardi possibile in tal modo accorciai la serata e accrebi la lunghezza delle giornate e scopersi come questo fosse bene a quattro verse da me era un ricco possedimento appartenente alla contessa b ma vi abitava solamente l'amministratore e la contessa aveva visitato il suo possedimento solo una volta il primo anno del suo matrimonio e del resto non ci aveva passato più di un mese tuttavia la seconda primavera della mia clausura si sparse la voce che la contessa col marito sarebbe venuta per l'estate nel suo villaggio realmente giunsero al principio del mese di giugno l'arrivo di un vicino ricco è un'epoca importante per gli abitatori della campagna i possidenti e il loro servidorame ne discorrono un due mesi prima e un tre anni dopo per quel che mi riguarda confesso che la notizia dell'arrivo della giovane e bellissima vicina mi fece una forte impressione ardevo dall'impazienza di vederla e perciò la prima domenica dopo il suo arrivo mi diressi dopo pranzo al paese di per presentarmi alle loro eccellenze come prossimo vicino e umilissimo servitore un lacchè mi introdusse nello studio del conte e poi andò ad annunciarmi l'ampio studio era messo su con tutto il lusso possibile vicino ai muri stavano degli armadi coi libri e su ognuno un busto di bronzo sul camino di marmo era un largo specchio il pavimento era ricoperto di panno verde e adorno di tappeti disavvezzato dal lusso nel mio povero cantuccio e non avendo visto da lungo tempo la ricchezza altrui divenne timido e aspettai il conte con una certa emozione come un postulante di provincia aspetta l'uscita del ministro la porta si aprì ed entrò un uomo d'un 32 anni di bella presenza il conte si avvicinò a me con aspetto aperto e affidabile io cercavo di riprendere coraggio e stavo per cominciare a presentarmi ma egli mi prevenne ci sedemmo la sua conversazione libera e gentile disperse ben presto la mia inselvaticchita timidezza cominciavo già ad entrare nel mio stato d'animo abituale quando a un tratto entrò la contessa e la si impadronì di me più di prima realmente ella era una bellezza il conte mi presentò io volevo sembrare disinvolto ma quanto più cercavo di prendere un aspetto spigliato tanto più mi sentivo goffo essi per darmi il tempo di rimettermi ed abituarmi alla nuova conoscenza cominciarono a parlare fra loro trattandomi come un buon vicino e senza cerimonie intanto io avevo cominciato a camminare avanti e indietro esaminando i libri e i quadri i quadri non sono conoscitore ma uno attrasse la mia attenzione rappresentava una veduta della svizzera ma in esso non mi colpì la pittura sibbene il fatto che il quadro fosse trapassato da due pallottole piantate una nell'altra ecco un bel colpo disse rivolgendomi al conte sì egli rispose è un colpo molto notevole e voi tirate bene proseguì passabilmente risposi io lieto che la conversazione avesse toccato finalmente un tema a me familiare con una carta a trenta passi non faccio cilecca si intende con pistole che io conosca davvero disse la contessa con l'aria di una grande attenzione e tu amico mio colpiresti una carta a trenta passi qualche volta proveremo rispose il conte a suo tempo non tiravo male ma ecco sono già quattro anni che non ho preso in mano la pistola oh osservai io in tal caso scommetto che vostra eccellenza non colpirà la carta neppure a venti passi la pistola vuole un esercizio quotidiano lo so per esperienza al nostro reggimento era considerato uno dei migliori tiratori una volta mi capitò di non prendere in mano la pistola per tutto un mese le mie erano in riparazione e che pensereste mai eccellenza la prima volta che poi mi misi a tirare feci cilecca quattro volte in fila con una bottiglia a venti passi noi avevamo un capitano motteggiatore e compagnone era lì per caso e mi disse vuol dire che tu amico non puoi alzar la mano su una bottiglia no eccellenza non bisogna trascurare questo esercizio se no si perde l'abitudine in men che non si dica il miglior tiratore che ho avuto la fortuna di incontrare tirava ogni giorno almeno tre volte prima del pranzo per lui era un'abitudine come un bicchierino di grappa il conte e la contessa erano contenti che io mi fossi messo a discorrere e come tirava mi domandò il conte ma ecco come eccellenza gli capitava di vedere che una mosca si era posata sul muro ridete contessa in fede mia è vero capitava che gli vedesse una mosca e gridasse cusca una pistola cusca allora gli portava la pistola carica lui pum e ficcava la mosca nel muro è meraviglioso disse il conte e come si chiamava silvio eccellenza silvio gridò il conte saltando su dal suo posto avete conosciuto silvio come non conoscerlo eccellenza io e lui eravamo amici al nostro reggimento è raccolto come un nostro compagno fraterno ma ecco che sono già cinque anni che non ho più nessuna notizia di lui allora vuol dire che anche vostra eccellenza l'ha conosciuto l'ho conosciuto l'ho conosciuto bene non vi ha raccontato un avvenimento molto strano non è forse lo schiaffo eccellenza da lui ricevuto a un ballo da uno scervellato e vi ha detto il nome di quello scervellato no eccellenza non me l'ha detto ah eccellenza seguitai io indovinando la verità perdonate non sapevo non siete forse voi io stesso rispose il conte con aspetto straordinariamente sconvolto e il quadro trapassato è la testimonianza dell'ultimo nostro incontro ah mio caro disse la contessa in nome di dio non raccontare sarà terribile ascoltarlo per me no ribatte il conte racconterò tutto egli sa come ho offeso il suo amico e che sappia come silvio s'è vendicato di me il conte mi avvicinò una poltrona ed io con la più viva curiosità sentì il seguente racconto cinque anni fa mi sposai il primo mese del one imun lo passai qui in questo villaggio a questa casa sono debitore dei migliori momenti della mia vita e di uno dei ricordi più opprimenti una volta di sera eravamo andati a cavallo insieme il cavallo di mia moglie recalcitrava e la si spaventò mi dia delle redini e andò a casa a piedi io cavalcai avanti nella corte vidi un carro da viaggio mi dissero che nel mio studio era seduto un uomo il quale non aveva voluto dichiarare il suo nome che mi aveva detto semplicemente che aveva da vedermi entra in questa stanza e vidi nell'oscurità un uomo polveroso e con la barba lunga era qui in piedi accanto al camino mi avvicinai a lui cercando di rammentarmi le sue fattezze non mai riconosciuto conte disse gli con voce tremante silvio gridai io e lo confesso sentii come mi si rizzavano i capelli proprio così seguitò egli il colpo tocca a me son venuto a scaricare la mia pistola sai pronto la pistola gli venne fuori da una tasca laterale io misurai i dodici passi e mi posi là nell'angolo pregandolo di sparare al più presto finché mia moglie non fosse tornata lui faceva ad agio chiese un lume porterono delle candele io chiusi la porta ordinai che non entrasse nessuno e lo pregai nuovamente di sparare e gli trasse fuori la pistola e mirò io contavo i secondi pensavo a lei passò un minuto orribile silvio abbassò il braccio mi dispiace disse gli che la pistola non sia caricata a noccioli di ciliegie la pallottola è pesante mi sembra di continuo che il nostro non sia un duello ma un assassinio non sono abituato a mirare su un inerme cominciamo di nuovo tiriamo a sorte a chi toccherà sparare per primo la testa mi girava mi pare che non ha consentivo finalmente caricammo ancora la pistola piegammo due bigliettini e gli limise nel berretto un tempo da me trapassato io trassi fuori di nuovo il numero uno tu conte sei diabolicamente felice disse gli con un sorriso che non dimenticherò mai non capisco che cosa accadesse e in che modo egli possa avermi ci costretto ma io sparai e colsi in quel quadro là il conte indicò col dito il quadro trapassato il suo volto bruciava come il fuoco la contessa era più pallida del suo fazzoletto io non potei trattenermi da un'esclamazione io sparai proseguì il conte e si ha lodato il dio feci cilecca allora silvio in quel momento era davvero terribile silvio cominciò a prendere la mira contro di me a un tratto la porta si è perse mascia entra di corsa e con uno strido mi si getta il collo a sua presenza mi fece tornare tutto il coraggio cara le dissi non vedi forse che scherziamo come mai ti sei spaventata va bevi un bicchier d'acqua e vieni da noi ti presenterò un vecchio amico e compagno mascia seguitava ancora ad essere incredula dite mio marito dice la verità disse la rivolgendosi al minaccioso silvio è vero che scherzate tutte e due e gli scherza sempre contessa la rispose silvio una volta mi diede per scherzo uno schiaffo per scherzo mi ha trapassato questo berretto qui per scherzo non m'ha colto adesso adesso anche a me è venuto il desiderio di scherzare con queste parole egli voleva prendere la mira contro di me in sua presenza mascia si gettò ai suoi piedi alzati mascia è vergogna gridai io infuriato e voi signore cesserete di schernire una povera donna sparate o no non sparerò rispose silvio sono contento ho veduto il tuo turbamento il tuo timore ti ho costretto a spararmi addosso per me basta ti ricorderai di me ti lascio alla tua coscienza già stava per uscire ma si fermò sulla porta si volse a guardare il quadro da me trapassato gli tirò contro quasi senza mirare e scomparve mia moglie giaceva svenuta la servitù non osava fermarlo e lo guardava con orrore egli uscì sulla scalinata chiamò il vetturale partì prima che io facessi in tempo a tornare in me il conte tacque in questo modo venne a conoscere la fine del racconto il cui principio una volta mi aveva tanto colpito con l'eroe di essa non mi incontrai più raccontano che silvio durante l'insurrezione di alessandro i psilanti comandasse un reparto di eteristi e fosse ucciso in combattimento sotto sculiani 1830